Seguendo in cantina all'aspetto un po' più commerciale, sovente ci veniva chiesto ma avete anche disponibilità di camere, è possibile per notare da voi? Allora abbiamo avuto questa idea, un po' un sogno, di realizzare diciamo un piccolo paradiso nelle langhe, cioè solo tre camere e appunto è un made and breakfast. Le abbiamo chiamate con i nostri libini di produzione, quindi diciamo i più importanti, quindi trefolera, morassina e rabaià. Abbiamo iniziato quattro anni fa, ci abbiamo messo moltissima passione, quindi abbiamo cercato di ricalcare quello che è la tipica casa piemontese, aggiungendo elementi di design, molta ricerca diciamo sui materiali d'epoca. Le persone che ci vengono a trovare, beh prima di tutto ritornano e questo è un segno positivo perché diventano quasi degli amici. A coronare il tutto, la cosa molto bella è il fatto che sia io che mio marito Gabriele riusciamo a lavorare insieme anche in quella direzione. Il nostro made and breakfast rappresenta la tipica casa piemontese con alcuni dettagli di design, come abbiamo pensato questa torre vecchia, all'interno c'è una scala che ricalca un po', forse abbiamo pensato poi la torre di Barbaresco e ci piaceva riprodurla anche in questa costruzione. Poi abbiamo utilizzato mattoni di recupero di fine del Settecento, coppi vecchi, all'interno delle stanze diciamo che abbiamo utilizzato dei portali del Settecento per le ante dell'armadio. Diciamo che nulla è stato dato al caso ma abbiamo ricercato i vari dettagli. Viene fatta direttamente da noi la colazione facendo ricerca anche di prodotti della tradizione tipici e cerchiamo di dare ottimi consigli per quanto riguarda la ristorazione. Siamo a 600 metri dalla cantina quindi è possibile visitare la cantina, assaggiare i nostri vini e poi abbiamo pensato di focalizzarci tantissimo vista la posizione in cui è il Bed & Breakfast sul paesaggio perché praticamente la vista dalle camere è proprio una vista mozzafiato perché sui crui del Barbaresco, in particolare Rabaiat, anche con la possibilità di usufruire della piscina che è direttamente davanti alle camere.